Ed ora invece alcune anticipazioni sulla rievocazione storica in cammino sui luoghi della storia in programma domenica 14 giugno. In cammino sui luoghi della storia, progetto scritto diretto da Vanna Riolfo, funzionario del comune di Bra, in collaborazione con Marica Badellino, volontaria della sezione braidese dell'Associazione Antincendi Boschivi, è un'iniziativa che si svolgerà domenica prossima, 14 giugno, sui sentieri boschivi dei comuni di Bra, Pocapaglia e San Frè, con il sostegno dell'Istituto Storico della Resistenza. Su ognuno dei cinque itinerari guidati dal CAI, sezione di Bra, ci saranno rievocazioni storiche della lotta partigiana. Consentiranno di approfondire vicende realmente accadute nei luoghi più impervi dei comuni promotori, teatro di episodi connotati dalla generosità dei civili, ma anche dal coraggio e dai sacrifici dei combattenti impegnati nella lotta. Tutti i sentieri convergeranno alla Carbonera, area prescelta nell'estate del 1944, dalle formazioni partigiane e dai comandi alleati per il ricevimento degli aviolanci. Per partecipare occorre prenotarsi con il modulo di iscrizione scaricabile dal sito del Comune di Bra. Gli attori della rievocazione sono entrati nella parte con una condivisione intensa, impegnandosi più volte nelle prove. La più piccola di età ha solo otto mesi, mentre la più anziana di anni ne ha 94. Hanno dichiarato Bruna Sibille, Giuseppe Dacomo e Giammario Racca, rispettivamente primi cittadini di Bra, Poca, Paglia e San Frè. E molto del lavoro di preparazione lo hanno svolto le associazioni di volontariato, che ringraziano per l'impegno, come il CAI, l'Associazione Antincendi Boschivi, l'ANA di Bra e Roero, i Carabinieri in Congedo, il Gruppo Civico Volontari Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, il FIRT, Federazione Italiana Riccio e Trasmissioni Sezione di Bra, l'Associazione Radio Amatori Braidesi. Ci troviamo qui al Bivio dell'Olmetto, alla prima scena di questa rievocazione storica intitolata In cammino sui luoghi della storia. È un'evocazione storica importantissima perché riprende i primi momenti della lotta partigiana in questi luoghi. In questa manifestazione abbiamo coinvolto circa 200 comparse, ragazzi giovani e adulti che non avevano mai mai avuto esperienza di recitazione e di teatro. In questa rappresentazione sono coinvolti tre comuni con i rispettivi sindaci che avranno dei ruoli all'interno della recitazione e della rappresentazione di alcuni momenti dell'inizio della guerra partigiana contro il nazismo. Siamo riusciti anche a coinvolgere dei sacerdoti veri, reali, che faranno tutta la parte che in quel momento il clero svolgeva in appoggio e in riconoscimento alle azioni partigiane. Anche i contadini riescono a prenderci a mangiare e a dormire. I fascisti minacciano dal fuoco le loro cascine. Davvero? Adesso pure loro ci cacciano via. Ragazzi è vero che vi cacciano via, ma voi lo capite i pericoli che corrono i contadini? Corrono più pericoli di voi che state nascosti. Voi dovreste proteggerli e invece gli fate correre dei pericoli. Ma adesso, bando alle parole. Calma, nerdi saldi, che qualche cosa combiniamo. E allora, cosa ci consiglia di fare? Vi consiglio di organizzarvi come una brigata partigiana regolare come le tante che ci sono in Piemonte che combattono per liberare l'Italia dai tedeschi e dai fascisti. Ci state? Ma come, colonnello? Noi dobbiamo organizzarci come una brigata partigiana regolare. Con l'aiuto, io con l'aiuto delle persone che conosco da Sanfrè posso ottenere i contatti con gli alleati, capire che cosa c'è bisogno di fare. Insieme cerchiamo di fare qualcosa e di liberare l'Italia. Ci state? Accettiamo la sovrapposta, colonnello. Anche noi siamo con lei, colonnello. Io sono con voi e non vi esserò mai soli. Ci state? Sì, va bene. Allora, ragazzi, andiamo. Che qualcosa da organizzare ce l'abbiamo già? Ah. Andiamo. Allora, ragazzi.